momento molto importante la più famosa ciclista urbana di roma e sotto casa mia con il suo potente mezzo direttamente da ciampino prima di andare a lavoro prima prima il dovere per un momento importantissimo la consegna siamo stati sempre a distanza da oggi oggi è proprio inaugurato pure la riapertura delle attività come ti è sembrata la strada piena piena sono tornati tutti sono tornati tutti cioè sembra settembre quando finisce l'estate sono proprio tornati tutti quindi siamo pronti mettiamo tutto online così potrete acquistare e supportare indossare bring your bike è anche personalizzabile ma solo il modello la debbie è personalizzabile è bellissima è stupenda allora aspettiamo una delle tue foto con solo con faccia buffa con faccia buffa è stupenda adesso tu fosi quella un attimo è veramente veramente bella sono contento che ti piaccia è stupenda no è bella è stupenda guarda i colori che sono veramente belli mi fa imbarazzare guarda che io sulle divise sono terribile rimanete connessi presto in vendita sul sito www.bringyourbike.it le magliette per indossare e supportare presentate le vendite che ogni pantalì ridicono la stessa cosa magari ghiacchiano così a caso alt'apposto se volete ricevere la maglietta ah questa devo dire te lo dici tu non troverai questa maglietta nei normali negozi no aspetta non troverai questa maglietta nei normali negozi no cosa devo dire? non la troverai no no non mi verrà mai non la troverai nei normali negozi buon lavoro corri adesso piove infatti anzi non correre troppo raccomandiamo sempre anche in bici meglio la prudenza vero? no no è il mio incubo pure per me ciao